Prosegue il piano di riordino dell'azienda di trasporto unico abruzzese e prosegue anche il piano di contenimento costi. Se le manovre messe in campo nell'ultimo anno hanno prodotto il risultato sperato, non è ancora conclusa la lista delle voci da ridurre. Prosegue infatti la conta delle sovrapposizioni e la pianificazione di nuove combinazioni per ovviare i chilometri doppione. Ovviamente l'impegno dell'azienda è che i tagli non vadano ad impattare sui servizi offerti ai cittadini. Questo significa eliminare le sovrapposizioni o eliminare anche le parziali sovrapposizioni. Molto spesso due corse nascono da località diverse e hanno un unico luogo di destinazione e magari si intersegano per strada. Il nostro obiettivo è fare in modo che una sola di quelle corse arrivi a destinazione assumendo il carico dei passeggeri dell'altra corsa. L'avvio delle scuole poi ha avuto un capitolo dedicato se si pensa che in molti casi i flussi di studenti abbiano subito modifiche, vuoi per implementazione o per diminuzione. In molti casi si è reso necessario l'aumento delle corse. Registriamo in questi giorni, in alcuni per fortuna casi isolati, delle difficoltà. Lì dove ci sono difficoltà, per essere chiari, autobus che viaggiano in sovraccarico, stiamo predisponendo corse e bis per fare in modo che tutti gli studenti possano arrivare a scuola in condizioni assolutamente di comodità. Quest'anno abbiamo avuto solo come luogo di destinazione le scuole di Atri un incremento di ben 250 studenti che lo scorso anno frequentavano altri istituti. E naturalmente poter sopperire a questo significa lavorare nei primissimi giorni della riapertura. Come abbiamo fatto, io credo che anche queste criticità, credo di poter dire, sono state tutte pienamente superate.